Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Per il grande pubblico Elena Sofia Ricci è conosciuta soprattutto per il suo ultimo lavoro in che Dio ci aiuti. L'attrice di recente ha deciso di abbandonare la serie, ma ancora oggi molti sperano in un suo inatteso ritorno. A dare qualche indiscrezione a riguardo ci ha pensato Francesca Chillemi, che in una recente intervista ha deciso di svelare tutta la verità. Quel che è certo è che la Ricci ha lasciato la fortunata produzione Rai proprio perché le occupava troppo tempo. Adesso però per Elena Sofia Ricci non è di certo un momento semplice. Infatti in queste ore è arrivato l'addio a quello che per lei è stato un vero e proprio maestro. Il mondo del teatro, nelle ultime ore, è rimasto orfano del maestro Armando Pugliese. La triste notizia è stata annunciata dalla collega e amica Elena Sofia Ricci, che ha spesso collaborato con lui e ha voluto dedicargli un commovente tributo sui social media. L'attrice ha espresso il suo dolore tramite un messaggio in cui dà l'ultimo saluto condiviso con i suoi followers. «Non riesco a crederci, sei stato mio maestro, mio padre, mio amico da una vita. Un dono averti incontrato», ha scritto. Le parole di Ricci hanno toccato profondamente il pubblico, suscitando numerosi messaggi di cordoglio e solidarietà.